Ci sono videogiochi che nonostante il passare del tempo rimangono incisi nella memoria e Tomba, o Tombi can dir si voglia, è sicuramente uno di questi. Anni dopo il suo debutto su Playstation, il nostro eroe dai capelli rosa torna su PS5 con Tomba Special Edition. Ma la vera domanda è, questo viaggio nel passato riuscirà a farci rivivere davvero la magia di allora? Il mondo di gioco è ancora quel meraviglioso caos stravagante colorato di un tempo e io stesso ricordo quanto mi affascinò la prima volta che inserì il disco nella mia PS1. Erano tempi diversi, cavolo, quasi trent'anni fa, dove i giochi più strani riuscivano ancora a brillare e il titolo sviluppato da Whoopie Camp era come una ventata d'aria fresca con il suo mix di esplorazione e umorismo assurdo. Ma il mondo videoludico stava cambiando. Mentre mi perdevo tra i maiali malvagi del primo capitolo, il panorama si stava pian piano trasformando, con titoli come Metal Gear Solid e altri che da lì a poco avrebbero portato una nuova dimensione cinematografica nelle nostre esperienze di gioco. Per dire, quando uscì il secondo capitolo di Tombi ero già proiettato verso quei giochi che stavano ridefinendo il medium e purtroppo lo ignorai quasi del tutto. Tornando a oggi, per Tomba Special Edition gli sviluppatori hanno optato per un approccio molto basico, limitandosi a un lieve lifting grafico e a qualche aggiustamento qua e là. È vero, il gioco è ora più fluido e gira a 1080p, tuttavia, se speravate in una rivoluzione, rimarrete delusi. Nessuna nuova area da esplorare, nessun contenuto extra che possa espandere l'esperienza, è come se avessero riportato un vecchio amico alla festa ma gli avessero detto di non parlare troppo. Un'occasione persa, insomma, ed è un peccato, perché c'era l'opportunità di dare nuova vita al gioco e renderlo più di un semplice Amar Kord. Prendiamo ad esempio remake come Crash Bandicoot and Saint Trilogy o l'ultimo remake di Spyro, che non si sono limitati a dare una mano di vernice, ma hanno ricostruito mondi interi con dettagli visivi moderni e meccaniche aggiornate. Invece qui sembra quasi che si siano limitati a spolverare l'opera e riposizionarla sulla mensola. E rispetto all'originale questa eredizione include pochissime nuove funzionalità. La possibilità di salvare in qualsiasi momento il riavolgimento dell'azione di gioco, i controlli analogici. Troviamo anche come extra un museo con documenti di sviluppo mai visti prima, materiale promozionale, bozze originali ad alta risoluzione, e un'intervista al creatore Tokuro Fujiwara, oltre a una nuova colonna sonora rimasterizzata. Tuttavia, sul fronte grafico non ci sono stati rimaneggiamenti significativi, con il gioco che praticamente è identico a quello di un tempo. Un po' pochino per una special edition, quindi, e questo mi preoccupa, considerando che è già stato annunciato il remaster del secondo capitolo, e facendo 2 più 2 anche a Tomba 2 toccherà la stessa sorte. Oltretutto questa nuova versione non corregge nemmeno quei piccoli difetti che il gioco originale aveva già allora. La libertà di esplorazione rimane uno dei punti di forza, ma i problemi legati alla gestione delle missioni e degli enigmi sono ancora tutti lì. Quanti di noi si sono trovati persi, vagando senza meta, tra un piano e l'altro, cercando di capire cosa fare? Con una giustatina, come un sistema di aiuti e una mappa un po' più chiara, sarebbe stato tutta un'altra esperienza. E anche i controlli, pur essendo stati resi più reattivi, sembrano comunque risentire di quel peso vintage. Insomma, è chiaro che un'operazione del genere serve anche a permettere a chi non ha mai giocato l'originale di farlo. In un mondo dove i titoli originali faticano ad affermarsi, l'operazione di remasterizzazione è sì comprensibile, ma sarebbe stato meglio riproporre la versione uscita all'epoca a un prezzo decisamente più economico, mantenendo tutto com'era, in una sorta di edizione classic. Questo sarebbe stato comunque importante per la preservazione del gioco, anche considerando che i prezzi della versione originale di Tomba hanno raggiunto da anni livelli esorbitanti sul mercato dell'usato. Sembra che si siano bloccati in un ciclo infinito di rimasterizzazioni e remake. Non che sia una cosa negativa di per sé, chi non ama di giocare un vecchio classico, ma è un segnale preoccupante che i videogiochi originali, quelli che dovrebbero spingere il medium in avanti, faticano sempre di più ad emergere. Siamo intrappolati in una nostalgia che rischia di diventare stagnazione. In definitiva, Tomba Special Edition è un'occasione mancata. Gli sviluppatori si sono limitati a fare il minimo indispensabile, sperando che la nostalgia facesse il resto. Per chi ha amato l'originale, sarà comunque un piacevole ritorno al passato, ma per i nuovi giocatori la sensazione potrebbe essere quella di trovarsi di fronte a un gioco che pur essendo ancora affascinante, non ha saputo adattarsi ai tempi moderni. E purtroppo nel 2024 la nostalgia da sola non basta. Ho già detto nostalgia? Grazie a tutti.